Siamo nel 2018, finalmente il 2018 è arrivato. Si vede il cielo diverso oggi, eh? Sì, non è vero, non è vero. Ciao! Ehm... Party! It's party days, it's the last day of the year! Happy New Year! What's Happy New Year? And now we're not four anymore, not this four, now we're four and a half. Stiamo in giugno del 1st? Sì. Stiamo in giugno del 1st? Questo è l'ultimo giorno dell'anno, ora devo andare con Elena e Emilia ondipo, purtroppo. Ci sono alcune cose che hanno solo ondipo e quindi devo andare a ondipo. Dopodiché, stiamo cercando le chiave di casa, scusatemi. Noi ci siamo qui a casa, sarà una cosa molto tranquilla, abbiamo degli amici che arrivano e quindi... Bello, sono contento, dai, sarà divertente. Facciamo la porta? Ok. Cosa? Pazio. Andiamo! Ma non vuoi mettere il tuo bilancio? Sì. No, è morto, sì. Sì, sì. Ah, e quindi dobbiamo comprare un colore per finire la verniciatura e dopodiché colore per finire il bagno e dopodiché andiamo a portare questi due pazzi a Target. Gli ho promesso un piccolo regalino. Emilia fa male l'orecchio qui, la cartellaggine fa male, non l'orecchio. Mi ricordo che ce l'avevo anche quando ero piccolo. Mi mancava un tipo, ragazzi. Un tipo non tradisce mai, come se diceva. Go! Let's go, girls! Ciao! Due pazzi sono, due pazzi. Ora Emilia non sta meglio perché stiamo andando al toy store, quindi sta meglio, non gli fa più male l'orecchio, capito? Furbetta la ragazzina, eh? Daddy, Daddy, that's what we would play with with Fever. I want to get out. So, what do you complain about? Two later toys. Non posso dire di no, queste due pazze. Allora, appena passato a Natale già penso nei regali, ancora. What's that? What's that? You can do! You can do! Can I have this? Can I have this? Yeah, okay. Can I have it anyone? Ora. Or. Is it still hurt? No. Oh no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's it. Oh, no. It sounds like a baby toy. Alleluia... Alleluia! 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 Andiamo ragazzi, let's go! oh you scared me spider girl hi let's go girls diamo la batteria scarica ci vediamo a casa ciao facce new year's for everybody questo è un gioco praticamente devi fare lo sperologo praticamente di scoprire dovete andare a scoprire una pietra gli attrezzini e così piano piano hanno scoperto del gioiello all'interno della rocca troccia ora è quindi stiamo preparando la tavola è pronta anche l'albero bye bye è sparito pronti dai da voi ma anche esattamente 1 2 3 due ore mancano da voi due ore due ore qui mancano ancora otto ore esatte e sto cucinando la mia lasagnetta ragazzi non mi faccio vedere che sto cucinando perché poi ci sono un sacco di schiettini dalla cucina che vengono fuori e cominciano a dire ognuno la sua e io faccio la maniera la mia lasagna è fatta dalla nonna e qui della mamma quindi buona a tutti piace perciò così è il corso è dimenticato una cosa nel supermercato quindi devo andare a comprare al volo quindi sono le 4 le 6 arrivano i nostri amici purtroppo non metterò sul proiettore perché il nostro vicino di casa ha una festa con 35 40 persone e hanno una musica a palla quindi è inutile mettere fuori il proiettore quando poi non può sentire un cavolo perché loro fanno musica e cose del genere però vabbè va bene così poi era solo per vedere il drop la palla di new york quindi però un sacco di lavoro per solo quel momento perciò non mi sembrava il caso in ogni cosa in ogni caso ragazzi siamo meglio anche le bambine sanno meglio quindi dai il 2018 ragazzi è una cosa importante se ci daranno cose importanti per tutti quanti cose belle positivi raccomando se avete un'idea portatela avanti sviluppatela e credeci credeteci lottate lottate anche se non avete voglia a volte non c'è voglia no però mi sono messo mi sono messo in testa che voglio farlo quindi lottate contro queste voi stessi e andate 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 anche a volte capitano un sacco di volte sono stanco a pezzi e dico non ce la faccio no 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 quanto sarebbe bello guardarsi la televisione però il primo passo che devo fare verso il computer poi quando mi siedo sul computer ciao non mi non mi rendo conto neanche del tempo che passa perché è divertente quindi vai dietro torna fai dispa è bello è bello ieri sono a letto alle 4 di mattina ho voluto mettere due video importanti per il 2017 in ogni caso noi siamo raggiunti per il catto ci stiamo ciao ancora esattamente due ore a capodanno questa è la lasagna che ho fatto questa è quella per le bambini ho fatto da solo la besciamella che non mi ricordavo più posso chiamare mia mamma al volo e dire mamma ricordami la ricetta cioè hai capito ho detto mamma mi hai salvato le chiappe mi hai salvato le chiappe no 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 we can't do that Nicole mi vuole insegnare come servire la lasagna we can't do that questa usanza di mangiare l'insalata prima della pasta è una cosa proprio americana l'americana 9.47 ragazzi siamo quasi pronti per capodanno 2018 della pasta 3 2 1 1 Happy New Year Grazie a tutti!